Siamo con il portiere dell'Occhie Clilugano, una bella vittoria sofferta e soprattutto secondo posto in classifica. Sicuramente un bel inizio per questa stagione, anche oggi secondo me è una bella partita per i tifosi, per un portiere magari un po' meno, ma sono contento per i tre punti. Hai subito quattro reti, però nei momenti importanti hai fatto delle parate decisive. Non voglio mai prendere quattro, ma è successo, per fortuna abbiamo trovato qualcosa per vincere. Oggi sono andate molto bene la situazione, soprattutto in power play, e a mio avviso una delle mosse principali è stato quel gol realizzato da Müller al quarantesimo, addirittura quando Lugano giocava con l'uomo in meno. Sì, anche il Fazzini, soprattutto lui, ha giocato una partita grande, lo ringrazio dopo, grazie al Fazzini abbiamo vinto questa partita secondo me. Ora la classifica è buona, però chiaramente siamo soltanto all'inizio della stagione. Sabato si annuncia il Cloten, che sembra una delle squadre più fuori del momento. Anche io sono mega sorpreso della performance di Cloten, sicuramente sabato ci aspetta una partita su un livello buono. A casa vogliamo sempre vincere, allora vogliamo chiudere questa settimana con altri tre punti. Come si vive la situazione dei due portieri svizzeri, entrambi stanno giocando delle buone partite? Fino adesso bene, siamo amici, io e Lioran, lui mi sopporta quando gioco io, io lo sopporto quando gioco a lui. E così abbiamo un bel ritmo. Grazie, complimenti e bocca al lupo per la partita di sabato con il Cloten. Grazie.